ehi sto bene grazie a tutti quelli che si sono interessato so che potrebbe non suscitare molta fiducia ma ho molta voglia di fare video ne uscirà uno durante la settimana e poi probabilmente anche qualcosa al 12 luglio ma potremmo parlare di niente quindi il video di oggi sarà molto semplice una chiacchierata ma lo volevo fare perché si tratta di questo poco f4 gt tra l'altro approfitto di trattare mentre è in carica visto che sono le 11 44 di sé lui è al 5 per cento di ricarica e voglio provare a vedere anche in diretta con voi quanto ci metto ad arrivare al 100 per cento 120 watt di potenza comunque vi voglio parlare di poco f4 gt non perché mi stiano pagando mi hanno pagato per dei reels su instagram spero li abbiate già visti questo video è totalmente spontaneo lo capirete perché ci sono alcuni difetti ma l'ho voluto fare perché per la prima volta ho utilizzato un dispositivo con la miui per due mesi e questo implica il fatto che la miui mi sia piaciuta altrimenti io avrei smesso ben prima di utilizzarlo andiamo dritti al punto non ho voglia di farvi perdere troppo tempo vi ho già fatto perdere troppo tempo in questa prima parte del video prima cosa migliorata della miui 13 funziona la rotazione manuale una volta che blocchiamo la rotazione automatica ma compare quel piccolo testino che ci permette di cambiarla e ma è arrivato con la miui 13 mi in alcuni dispositivi con la miui 13 non funzionava qui funziona o meglio funziona a metà nel senso che se imposteremo le gestures senza vedere la barra alla base cosa che a me piace da minimalista solo che perdete alcune funzioni tipo lo slide continuo lo swipe continuo tra le schermate ecco nel caso foste minimalisti malati come me e la voleste rimuovere scompare quella funzione per ruotare manualmente la schermata non ho capito bene la logica magari dovete sistemare solo questo piccolo dettaglio però ci siamo altro dettaglio sistemato su questo poco f4 gt che ho notato è che la miui stavolta supporta i 120 hertz praticamente in tutte le schermate come avevo provato su poco f3 con la harrow una rom modificata il punto qual è è che se vogliamo ridurre un video in sovraimpressione durante il nostro movimento tra le schermate ecco che quando ci sposteremo in tutti gli altri menu sottostanti non percepiremo quello scattino dei 60 hertz non so se ci siamo capiti ma secondo me sì notifiche zero problemi ho attivato chiaramente tutti i parametri dedicati alla gestione del risparmio energetico però questa volta veramente nessun problema cioè sistemate quelle voci sistemate tutti i problemi di notifiche funziona tutto il gps in background vi traccia il movimento la corsa tutto a posto grazie a voi su twitter ragazzi mi raccomando seguitemi io uso principalmente twitter ho potuto installare anche il launcher aggiornato di poco la versione 4.0 se non mi sbaglio che migliora tutte le animazioni ci sono alcune voci per esempio quando andiamo nel menu delle impostazioni del launcher lo facciamo con delle animazioni leggermente più fluide ma banalmente anche andando nel multitasking tornando alla home tutto un pochettino più omogeneo tutto più curato non è una rivoluzione però bene che poco launcher sistemi un po le cose perché avevo sentito dei pareri sul poco launcher non proprio così idilliaci ecco mi limiterò a dire questo però bene che ci stiano lavorando brava poco altra piccola correzione che ho notato e che mi sento di dovervi dire è che su telegram finalmente posso cambiare il formato dei caratteri quindi in corsivo in grassetto direttamente tenendo premuto sulla parola che voglio modificare una volta non succedeva questa cosa sulla miui compariva un menu una sorta di bolla che non comprendeva i formati dei caratteri ecco questa volta funziona tutto chiaramente come vi ho detto all'inizio del video non hanno sistemato proprio tutto ci sono ancora diverse applicazioni preinstallate tipo netflix facebook spotify che non utilizzo vabbè capisco che ci siano magari degli accordi commerciali per abbassare ulteriormente il prezzo non mi piace questa cosa la capisco non mi piace altro dettaglio negativo che è rimasto purtroppo è l'impossibilità di gestire l'audio castato su un google home mini oppure direttamente tramite tromcast su una vostra televisione non potete gestire il volume di ciò che state trasmettendo se non entrando nell'applicazione che sta mostrando ciò che state trasmettendo quindi se siete banalmente su telegram e volete cambiare il volume della canzone che state ascoltando tramite il vostro smart assistant no non lo potete fare non potete nemmeno selezionare la voce tra i vari volumi quindi la sveglia le suonerie suoni multimediali ma ci sono anche alcune applicazioni non disinstallabili come mi video io va bene tutto ma perché dovrei utilizzare mi video per riprodurre video anche perché cioè mi video è una specie di youtube cioè ogni tanto molto spesso in realtà almeno quattro volte al giorno mi arrivano delle notifiche che mi consigliano dei video indonesiani thailandesi non lo so mi compare la notifica la cancello sì posso disattivare le notifiche va bene lo sappiamo noi smanettoni sappiamo come intervenire lo dico solo nell'ottica di un utente medio che magari si trova ste notifiche non capisce se sono di youtube se sono di un'altra applicazione le apre sono in una lingua strana non è normale poco ok che questo probabilmente è un telefono per utenti abbastanza esperti insomma che sanno cosa stanno comprando però in generale la miui c'ha questa sbavatura fine però tutto qua cioè queste sono state le mie critiche verso l'esperienza che ho avuto con questo magico poco f4 gt ho adorato delle altre cose della miui per esempio nelle gestures per tornare indietro certo c'è lo swipe laterale ma se facciamo lo swipe un pochettino più in alto in una piccola sezione superiore beh a quel punto richiameremo il menu laterale che è presente in tantissime applicazioni su android e che secondo me google dovrebbe tenere in considerazione perché al giorno d'oggi non è proprio così semplice beccare quella zona che permette di richiamarlo senza triggerare il back vabbè prossimo punto adoro assolutissimamente l'integrazione della vibrazione miui uguale vibrazione integrata ovunque non solo nella tendina delle notifiche nei toggle ma banalmente anche selezionando il testo ogni volta che arriviamo alla fine di una parola ci viene ricordato con una vibrazione ogni volta che lasciamo la selezione che abbiamo portato a termine vibrazione un pochettino più forte è integrata da paura la vibrazione su miui che meraviglia anche perché qui devo assolutamente fare il collegamento con la caratteristica di poco f4 gt hanno montato un motore dedicato alla vibrazione che è pazzesco mai sentita una vibrazione del genere su un dispositivo android bravi non è solo per il gaming la vibrazione la vibrazione fa parte di tutta l'esperienza di un telefono è un punto cardine quindi brava miui che ci punti e brava poco per averci puntato tantissimo con questo telefono mi fai impazzire la funzione di countdown prima dello spegnimento una volta che la batteria è scarica nel senso arrivata all'1% cosa si fa ogni tanto ci si dimentica non ci si fa caso arriva la notifica quando si era al 5% si va avanti il telefono si spegne non si riesce a raggiungere il caricatore chiaramente in tempo ci si arrabbia insomma ognuno a modo suo però insomma non è mai bello interrompere così all'improvviso per una dimenticanza miui fa una cosa che io vi giuro avevo pensato da un paio di anni ma bene che l'abbia fatto qualcuno sono contento fa partire un countdown inevitabile che non si può aggirare di 30 secondi che ti dice guarda io tra 30 secondi spengo il telefono fai quello che vuoi se riesci mettilo sotto carica e io interrompo il countdown è una roba che mi ha evitato di arrabbiarmi diverse volte ma soprattutto appunto di far spegnere il telefono per motivi di batterie tutti dovrebbero utilizzare questa funzione vi prego android puro inserisci questa roba che cambia tutto ecco il sensore di prossimità non ho capito al 100% se si tratti di un sensore fisico o meno nel senso che mettendoci sopra la mano lui non si spegne ok quando ascolto un vocale metto la mano davanti non si spegne però non credetici va bene ma io tutte le volte che l'ho utilizzato in chiamata o per ascoltare un messaggio vocale mettendomelo vicino all'orecchio spettacolare nessun problema si è sempre spento lo schermo quindi funziona per me sì perché nell'uso quotidiano come ha funzionato quindi sì altro dettaglio di questo telefono poi che molti si chiederanno sono i doppi slider per far saltare fuori questi tasti dorsali che sono un buonissimo antistress più volte mi sono ritrovato a continuare a aprirlo e chiuderlo va bene in più sono pensati in maniera intelligente ve l'ho detto anche in un reel che è sponsorizzato ma non per questo dico delle bugie ci mancherebbe però potete utilizzarli per triggerare delle funzioni per esempio doppio click per la torcia e altre cose che nell'uso quotidiano tornano utili quindi non per forza solo gaming ma chiaramente lato gaming tornano molto utili perché ragazzi giocare con dei tasti fisici dorsali su un telefono cambia tutte le cose certo non è a livello di joystick esterno però migliora e di molto la situazione vi dico solo che all'inizio io ero abituato dei tasti dorsali soft touch su un altro telefono da gaming su nubia ecco con questo all'inizio mi sono detto oh cavoli se io ogni volta che devo sparare devo cliccare quindi anche magari spostare di pochissimo la mira che sto effettuando con la mia arma mi complica un pochettino la vita tempo tre giorni basta mi sono abituato cioè vi abituate proprio alla sensibilità con la quale c'è da premere e lasciare appunto il trigger quindi è veramente bella come funzione comoda se volete giocare con il telefono non potete ecco prescindere da questa caratteristica qua quindi parlando velocemente delle prestazioni sto facendo un video più lungo di quello che volevo ma comunque ottime vanno bene nessun problema nessun limite allo snapdragon 8 generazione 1 fate un po voi però non si arriva mai a superare i 40 gradi con giochi anche pesanti in questo periodo estivo dove sto sudando anche solo in questo momento però prestazioni ottime ottime anche le performance della batteria passeranno vari screenshot come al solito però per una batteria che non è neanche da 5000 mAh io questi risultati non me li aspettavo sono felice di averli trovati su questo telefono che vi ripeto funziona tutto le notifiche non non blocca processi in background ma altro aspetto clamoroso di questo telefono consiste nella componente audio che è clamorosa ci sono due speaker stereo ma in realtà sono quattro perché ce ne sono due per lato messi in una posizione eccezionale che vi permette anche di ricreare una sorta di cassa di risonanza quando giocate o quando impugnati in orizzontale il dispositivo è una roba pazzesca è il miglior audio che io abbia mai sentito su un telefono è normale ci sono quattro speaker cosa stiamo parlando basta è il miglior audio fine basta chiudi la bocca francesco quindi la morale è non vi parlo delle foto va bene fa buoni video ma la morale è che sì un telefono da gaming ma che nell'utilizzo quotidiano è una bestia comunque cioè è una fiamma va benissimo l'ho utilizzato due mesi non sono impazzito questo dovrebbe essere un benchmark molto più affidabile di tutti i vari antutu e quelle cose che trovate online io sgoogle mi sono trovato bene con un telefono con la mia ui e l'ho usato per due mesi diciamo che secondo me quando era uscito a 499 euro era a tutti gli effetti un affare cioè trovare 499 euro un dispositivo con snapdragon 8 generazione 1 e tutte le altre caratteristiche è veramente complicato a 599 rimane comunque molto interessante perché è difficile trovare un dispositivo con queste caratteristiche hardware quindi se vi piacesse la mia ui e lui secondo me è veramente una delle easy choice più semplici da effettuare perché parlato in inglese così però due mesi con lui ho fatto due mesi quindi siamo giunti nel frattempo 100 per cento quando quando ha finito è al 100 per cento della batteria sono le mezzanotte due minuti fondamentalmente ci ha messo 20 minuti per caricarsi al 100 per cento con il suo caricatore dedicato con la porta type c tra l'altro caricatore a filo con l'impugnatura del telefono perché giustamente non deve disturbare nelle sessioni di gaming insomma ragazzi è un telefono che a tutti gli effetti mi è piaciuto non non posso dirvi altro a differenza a differenza di un altro telefono che vedrete comparire o qui o qua forse qua mi piace di più voglio spostare la testa questo qua non mi era piaciuto tantissimo andate a vedere il video perché adesso è uscita la arrow quindi una rom anche per lui e la sto provando e sta andando molto bene e ve lo consiglio e ne parlerò nel canale davvero show me che vi lascio invece qua sotto forse se ci sta se no comunque andatelo a vedere perché questo è interessante